Vai! Ma è ste! Apri, apri! Terribile! Che l'ho mai visto? Cos'è sta cosa? Cos'è? Posso prenderlo in mano? Questo qua è strano. Sembra uno strumento di tortura. Ricorda qualcosa di vagamente sadomaso. Non ho idea. Non serve di sicuro come stozzicadenti. Per staffare le bottiglie. Lo butto nella forma di formaggio, faccio così, viene a fare un pezzettino all'assaggio. Dovrebbe essere un misuratore di livello dei liquidi. Non ci danno un aiuto. Ormai per gli spiedini. Per lardellare l'arrosto. Per raffiudere tutto l'hamburger insieme. Devo dire che forse ho capito cos'è. Mamma mia che difficoltà! Ah, ottimo! Si inserisce la punta, poi facendolo girare dovrebbe uscire un ricciolo. Una spirale. Di verdure. Sbagliare la patata. La patata rondella. Serviva a preparare una patata ricciata. La patata. Abbiamo sbagliato. Sì, spiralatore. Complimenti a lui. Grazie. Grazie.